Bellissime cose, bellissimi formaggi, ma quanto è importante avere un sostegno per poter continuare la ricerca della qualità? È fondamentale credo, io in oramai 40 anni, forse anche qualcosina più di lavoro in agricoltura ho sempre fatto uso, non so se questa è la parola corretta, dei finanziamenti e dei sostegni pubblici per crescere e se sono cresciuto lo debbo anche a loro. Quindi è fondamentale per le aziende agricole poter attingere a finanziamenti pubblici per sviluppare il proprio lavoro nel modo più corretto possibile. E l'azienda Fontagrane quali prodotti ha realizzato? Allora noi 23 anni fa facemmo la scelta di trasformare il latte, di trasformare adesso tutti i prodotti che facciamo. Quindi il latte, le verdure, la carne, i maiali, le galline, no? Oramai abbiamo un bel po' di roba e tutto viene trasformato. Ovviamente il prodotto centrale è formaggio ma attorno al formaggio c'è tutto il resto. E questo lo abbiamo fatto anche con i finanziamenti dei BSR. L'ultimo BSR che abbiamo fatto, questo lo voglio dire perché è un finanziamento molto interessante che va oltre l'agricoltura, no? Che è il mondo del sociale. Quindi è il secondo BSR che facciamo sul sociale. Questo è a favore dei ragazzi autistici ed è un'esperienza, devo dire, molto ma molto interessante, molto ma molto bella. Grazie mille. Grazie a tutti.